Dove sono? Che cos'è questa storia di lame e di luce nella mia mano? Tu sei lo scudiero del Pain King, un'arma per le anime dei guerrieri persi tra paradiso e inferno. Troverai altre anime, creature e demoni che ti attaccheranno. Questa è l'arma per sconfiggerli. Ne troverai altre, Hank. Il Pain Killer? Ok, fai vedere cosa può fare. Questa è l'arma per sconfiggerli. Questa è l'arma per sconfiggerli. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.